Anche nella vita chi non ha obiettivi non so dove si può andare. L'obiettivo, come detto Antonio, è una cosa che cambia sempre, si evolve forse. Quindi secondo me l'obiettivo è qualcosa che ha a che fare con l'evoluzione, proprio di non, cioè io mi evolvo, come se diventasse sempre qualcosa di più forte o di migliore. Che differenza c'è allora, secondo voi, già da queste risposte che abbiamo avuto, tra un obiettivo e un desiderio, un sogno? Alla fine se tu hai un sogno ti devi mettere questo obiettivo e piano piano riesci a realizzarlo grazie agli obiettivi che ti metti tu. Arrivare qui è un sogno o un obiettivo? Un obiettivo. Perché? Può essere anche un sogno, però proprio per diventare un obiettivo, cioè proprio per diventare realizzabile. Io sono in direzione al corso, facendo quello, obiettivo. Cioè lui dice lavorare costantemente come un obiettivo per poi avere quello che sto dicendo. Che poi era la stessa cosa che avevo detto al periodo, ho cercato di dire anche io, quindi manco le cose, 5 parole, quello che avevo fatto al periodo, 5 parole. Allora, da lì. Allora, da lì.